La visita di Papa Francesco in Abruzzo il prossimo 28 agosto in occasione della perdonanza celestiniana e sarà proprio lui il primo pontefice della storia ad aprire la Porta Santa dopo 728 anni. Oggi è arrivata l'ufficializzazione della notizia da parte del Cardinale e Arcivescovo dell'Aquila Giuseppe Petrocchi dopo che la prefettura della Casa Pontificia ha confermato il programma della visita che trovate sul sito di Reteotto all'indirizzo www.reteotto.it. Le immagini che dalla regia Roberto Cherchi ci sta mostrando si riferiscono all'edizione precedente, a quella del 2021 e l'apertura della Porta Santa il 28 agosto dell'anno scorso. Il Santo Padre aprirà la Porta Santa la mattina del 28 agosto e non in serata come è sempre accaduto e terrà l'Omelia e l'Angelus sul piazzale della Basilica di Collemaggio. Il Cardinale Petrocchi afferma che questa scelta rappresenta un gesto di predilezione verso la nostra Chiesa, la nostra città, ancora più prezioso se si tiene conto dei suoi pressanti impegni, degli impegni del Pontefice, gli impegni pastorali e di alcuni dolorosi problemi di salute. Dopo l'istituzione della perdonanza continua il Cardinale Petrocchi, che è stata decretata da Celestino V, Papa Francesco, il primo Pontefice che dopo 728 anni apre la Porta Santa e l'attesa fedele e tenace degli Aquilani, che si è prelungata nei secoli, approda felicemente al suo compimento. La presenza del successore di Pietro conferirà a questo evento una portata planetaria. La Porta Santa verrà aperta non solo ai pellegrini, che accorreranno numerosi, ma sarà spalancata sul mondo intero. E il Cardinale Petrocchi dice ancora speriamo che tutti i popoli, specie quelli lacerati dai conflitti e da divisioni interne, possano varcarla idealmente e ritrovare le vie della solidarietà e della pace.